Buonasera, grazie di essere qua, nonostante l'incontro di calcio siete tutti tifosi della Juve naturalmente, va bene, c'è scritto sul programma che dobbiamo fare un faccia a faccia, naturalmente io mi chiamo Liri Abate, lui è Alfonso Sabella, io faccio di solito il giornalista, lui faceva il magistrato, adesso è stato prestato un attimo all'amministrazione comunale di Roma dove fa l'assessore alla legalità e in questo momento Roma forse ne ha tanto bisogno di legalità, per cui da lì è venuto fuori dobbiamo fare un faccia a faccia fra il giornalista e l'assessore alla legalità, però mi piace ricordarlo più come magistrato, Alfonso Sabella che era uno dei cacciatori di mafia ma di latitanti, un magistrato che ha affrontato a viso aperto i mafiosi, quelli che sparavano, oggi invece a Roma si trova ad affrontare i mafiosi che invece non sparano però, che inquinano l'economia legale di una città, inquinano la democrazia di una città e si trova ad affrontare quella che è stata scoperta dalla magistratura di Roma, una nuova mafia, una mafia che è stata chiamata mafia capitale, che non è la mafia che conosciamo dai film, dalle fiction che siamo abituati a vedere, per cui ci sono i mafiosi con le coppole, con la lupara, non ci sono i gangster che si mettono lì a fare le stragi, uccidere il singolo, tante persone, c'è una mafia nuova che applica dei metodi mafiosi, per cui è stato riconosciuto anche dalla Cassazione, che è quello che viene contestato dalla procura, è il metodo mafioso, per cui quelle persone che sono state arrestate con l'accusa di associazione mafiosa si possono continuare a indagare o comunque si possono processare per questo reato. E siccome la mafia nel corso dei decenni ha sempre cambiato volto, espressione, ma anche fisionomia, quella che si vede oggi a Roma è una mafia diversa da come lo siamo abituati a vedere dai corleonesi all'andrangheta. È una mafia che, adesso poi magari il dottor Sabella ci dirà una cosa diversa, però ci piace confrontarci su questo, è una mafia che è riuscita, un clan mafioso che è riuscito a mettersi nelle mani alcuni politici, è riuscito a mettersi nelle mani gli imprenditori di una città che è la capitale d'Italia, è riuscito a mettersi nelle mani una delle funzioni più importanti di un apparato pubblico che sono i dirigenti pubblici funzionari, quelli che comunque a volte proprio perché sono pubblici funzionari, sono dirigenti di uffici, non ti fanno passare il fascicolo da un ufficio all'altro, te lo fanno ritardare perché per cose loro, no? E allora lì deve arrivare magari l'imprenditore, arriva il commerciante, il cittadino, dice ma come, la mia pratica, a che punto è? E quello ti fa capire che se tu non sganci dei soldi per cercare di far scivolare la pratica verso l'altro ufficio, quello non te le farà passare mai, e lì è con la corruzione. A Roma questa cosa funzionava in qualche modo perché poi si presentava qualcuno con la faccia che loro riconoscevano magari mandato dal capoclan, così si può chiamare, che si chiama Massimo Carminati, e questi burocrati o questi impiegati facevano transitare le pratiche, ma non tutti, ce ne sono alcuni, per cui alcuni sono poi finiti nell'indagine giudiziaria che si sta facendo a Roma. Per cui giornalisticamente ma anche giudiziariamente ormai esiste una nuova mafia che è mafia capitale. E questa mafia capitale, che purtroppo è evidente a tutti, si è impossessata di gran parte di Roma, non tutta Roma. Purtroppo quello che vediamo, Roma come altre città magari, poi andando a vedere, ma faccio un paragono con Palermo, dice Palermo non è che c'aveva un singolo mafioso che comandava su tutto Palermo, Palermo era divisa in mandamenti, divisa in zone. Un po' Roma è stata divisa così, per cui ci sono una serie di capi che si sono divisi non solo le zone ma anche i business. Il business della droga lo fa un mafioso che si chiama Senese, il business di alto livello che è vicino alla politica, secondo le indagini lo fa Carminati e via dicendo. E poi comunque si arriva fino a una mafia che è dal centro di Roma, risposta verso anche il litorale, che lì troviamo le mafie tradizionali. L'Andrangheta, la Camorra, su Ostia, sul litorale. Però c'è una cosa che, per cui poi magari il dottor Sabella ci dice e ci dirà meglio, c'è una cosa che distingue e che ci fa capire veramente che questa è mafia. Il fatto che l'Andrangheta è cosa nostra, cioè le mafie tradizionali riconoscono e hanno riconosciuto questo clan capeggiato da Massimo Carminati. Nel senso che si sono interfacciati. È come se un commerciante di auto che vende auto qui a Cagliari si interfaccia con uno, un commerciante che vende auto a Roma, parlano la stessa lingua, si dividono il territorio, dice tu le vendi a Cagliari e io le vendo a Roma le auto. La stessa cosa hanno fatto l'Andrangheta e Carminati, Cosa Nostra e Carminati. Non si sono fatti la guerra, nessuno ha invaso l'altro territorio. L'Andrangheta e Cosa Nostra in gran parte, anzi in massima parte, sono rimasti sul litorale laziale, alle porte di Roma, mentre Carminati con altri tre suoi compari si sono presi il centro, cioè all'interno del grande raccordo anulare di Roma. Lo hanno diviso in quattro parti, lui se ne è preso una parte maggiore, però queste mafie nazionali non hanno invaso, per cui non è che c'è stata una guerra, adesso io entro, mi prendo il tuo territorio, tu non vuoi, allora si scatenano le guerre di mafia, no, non c'è stato nulla di tutto ciò. Le intercettazioni ci raccontano invece delle pacifiche connivenze e convivenze delle mafie nel territorio romano. E quello che mette in atto Massimo Carminati purtroppo è una nuova mafia, una mafia 2.0 che può essere esportata purtroppo in altre città, non quelle meridionali ma la città del centro nord, in città dove molte persone dicono ancora oggi che la mafia non c'è, non esiste, lo dicono anche a Roma, che questa non è mafia, che la mafia non esiste. Lo hanno detto anche a Milano, ci sono sentenze che lo dimostrano, che c'erano dei clan che gestivano alcuni traffici, non inquinavano la politica di Milano ma di altri comuni dell'Interland di Milano, lo dicono o lo dicevano a Torino dove sono stati scoperti altri clan, lo dicevano a Bologna. È una mafia silenziosa che non uccide, capisce che non uccidendo c'è meno attenzione perché se tu uccidi, se tu fai vedere il sangue, il sangue lo vedi, vedi il cadavere, poi ci sono le indagini, la gente si impressiona, la gente vede, si accorge e si ricorda che c'è la mafia. Ma finché non c'è il cadavere magari ce lo dimentichiamo pure che esiste la mafia. Ecco, non so se in questa introduzione siamo riusciti a dare il quadro di una situazione che purtroppo secondo il mio parere è allarmante da un punto di vista di cittadino ma è allarmante anche da un punto di vista politico perché abbiamo visto che questa mafia che è riconosciuta anche dal politico, che può essere di destra o di sinistra ma la riconosce, quando queste persone si avvicinavano a lui questo non solo si piegava ma prendeva i soldi da queste persone e eseguiva le loro richieste. Mai nessun politico fino ad oggi o fino a pochi mesi fa ha denunciato a Roma, ma sfido anche in altre città del centro nord richieste di corruzione. Non risulta che un assessore, un consigliere comunale, un sindaco abbia preso il telefono e chiamato il carabiniere dicendo scusate potete venire un attimo qui che c'è un signore che mi ha appena messo sul tavolo una mazzetta oppure mi ha messo le chiavi di una nuova automobile oppure mi ha detto per far passare una pratica. Mai nessuno. il problema è che abbiamo invece scoperto grazie alle intercettazioni che quelle corruzioni avvenivano e poi quando ci sono le indagini si scopre che il politico è corrotto. Dico bene dottor Sabella? Buonasera a tutti, sono Alfonso Sabella, lui si è presentato e li riabate. Io ho scritto un libro qualche anno fa al titolo Cacciatore di mafiosi, lui l'ho conosciuto 25 anni fa, era il più bravo cacciatore di notizie di tutta la giudiziaria del palermitano. Lui era un giovanissimo cronista dell'ANSA, io ero un giovanissimo, un po' meno giovane di lui, pubblico ministero a Termini Merese prima a Palermo. L'analisi che il Lirio ha fatto è un'analisi assolutamente corretta e per rendere bene qual è il fenomeno con cui si stiamo confrontando oggi, credo che bisogna fare un passo indietro, un passo proprio a quegli anni, gli anni in cui io e Lirio ci siamo conosciuti. Erano gli anni in cui io, giovane ragazzino, con la toga portavo le bare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima ancora di Rosario Libatino, o anni in cui quando eri di turno ti trovavi a dover correre da un posto all'altro di Palermo perché c'era un ragazzo di 20 anni ammazzato o una coppia dilaniata da colpi di Kalashnikov. Erano anni in cui la mafia aveva fatto la guerra allo Stato. Ora la differenza è molto semplice, la mafia ora lo Stato se lo sta comprando. È un atteggiamento diverso, la mafia all'epoca utilizzava l'Upara, utilizzava il Kalashnikov, oggi usa la mazzetta. Come c'è stato questo passaggio? Dobbiamo dare atto innanzitutto a uno straordinario personaggio della nostra storia che si chiama Pio Latorre. Sto citando Pio Latorre perché Pio Latorre è stato l'autore di quella norma che è l'articolo 416 bis introdotto nel codice penale 33 anni fa, che ancora oggi dimostra un'attualità, quando le leggi si scrivevano bene, tale da consentire alla procura di Roma di avviare un procedimento e farlo riconoscere la validità in Cassazione per associazione mafiosa a carico di gente che non spara. Perché la norma è scritta veramente bene, più Latorre ha pagato con la vita questa sua scelta, quindi non è stata una cosa che è costata poco. Io partirei da un episodio, mi sono occupato quando era a Palermo principalmente purtroppo di quella che definivo bassa macelleria, cioè omicidi, ho fatto il processo, le indagini per il sequestro e l'omicidio del piccolo Di Matteo, non so se ricordate il bambino di 12 anni sequestrato, tenuto prigioniero per più di due anni e poi sciolto nell'acido, ma soprattutto ho arrestato lati tanti, ne ho arrestati tantissimi, a partire da Giovanni Brusca, Leo Luca Bagarella, Vito Vitale. Uno l'ho arrestato il 6 giugno del 1997, si chiama Pietro Aglieri. All'epoca The Guardian, che è una rivista, un quotidiano inglese molto famoso, per prendere in giro gli italiani, aveva fatto una prima pagina, prima che noi lo arrestassimo, dove aveva messo la fotografia, l'ultima segnaletica di Pietro Aglieri che risaliva diversi anni prima, dove con sotto la scritta, l'italiano più famoso all'estero, cioè un criminale mafioso. Lo arresto il 6 giugno del 1997 seguendo tra l'altro un prete che gli andava a dire messa a domicilio. Amico oppure tuo? Eravate vicini di casa poi. Scusa, eravate vicini di casa? Poi ci siamo avvicinati dopo. Quindi seguendo questo prete che gli andava a dire messa, quando facciamo l'irruzione nel covo di questo latitante, troviamo, era considerato il numero 2 di Cosa Nostra in quel momento dopo Provenzano, perché gli altri li avevamo arrestati quasi tutti, troviamo un altare dei paramenti sacri. Quindi io penso che lui sia disposto a fare un percorso di pentimento. E allora mi presento il 7 di giugno l'indomani mattina a Luciardone, al carcere di Palermo, bello pimpante, cercando di convincerlo a collaborare con la giustizia e a rivelarci i segreti di quella parte di Cosa Nostra che noi non conoscevamo. Aglieri mi dice, vede dottore, quando voi venite nelle nostre scuole, le nostre scuole, cioè le scuole della mafia, le scuole che sono nel nostro territorio, a parlare ai nostri ragazzi, cioè alle persone che noi controlliamo, di legalità, rispetto delle regole, civile convivenza. Questi ragazzi vi seguono, pensano che voi state dicendo delle cose giuste, ma quando questi ragazzi fanno 18 anni, 20 anni, si devono sposare, cercano una casa, cercano un lavoro, cercano un'assistenza sanitaria. Dottore, questi ragazzi a chi trovano? Trovano a voi o trovano a noi? Io non ho saputo cosa rispondergli perché aveva ragione, ma ho capito una grande verità, che la mafia, le mafie, si inseriscono dove, dove lo Stato non c'è. Se lo Stato non c'è, le mafie hanno la massima possibilità di allargarsi. Una volta entrai in polemica con il nostro compaesano Andrea Camilleri perché dissi, mutuando impropriamente il titolo di un suo libro, la mafia ha la forma dell'acqua, proprio perché come l'acqua riesce a, dal mio punto di vista, dal punto di vista Camilleri era diverso ovviamente, ma io l'avevo specificato, solo che poi la sintesi, i tuoi colleghi giornalisti mi hanno fatto entrare in polemica con Andrea Camilleri. La sintesi. Perché dico come l'acqua riesce a espandersi e a raggiungere tutti gli interstiti, tutti gli spazi, là dove tu non ci metti un freno. Faccio un esempio, non vi voglio annoiare, ma c'era un mafioso, un certo Vito Vitale che mi cercava per ammazzarmi, quindi era una guerra contro il tempo, o io o lui. Lui è in galera, io so vivo, quindi abbiamo vinto noi. Ma allora quando l'arrestiamo penso bene di mettergli una micro spia all'interno del carcere dove lui deve fare i colloqui per cercare di capire quanto era fondato quel progetto, anche un po' con interesse personale di omicidio nei miei confronti. E cosa era successo? Che lo Stato, per proteggersi dai mafiosi che stavano in carcere, aveva emanato tutta una serie di norme, tra cui l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Una norma molto rigida che vieta ai mafiosi detenuti di avere contatti fisici, quelli di una certa pericolosità, con i loro familiari, proprio per evitare il passaggio dei famosi pizzini di notizie, di ordini, e che questi colloqui devono essere audio e video registrati e qualche volta anche audio registrati. La Corte Costituzionale giustamente aveva detto ma cosa c'è di più crudele che togliere il contatto fisico tra un padre e un figlio innocente? Nulla, ovviamente, è una cosa crudele. Quindi il Dipartimento dell'Avministrazione Penitenziaria sulla base di questa nuova sentenza della Corte Costituzionale dà una possibilità ai mafiosi detenuti al 41 bis di non fare con i figli di 10 anni il colloquio solo dietro al vetro blindato, ma gli dà 10 minuti di tempo in cui li possono abbracciare, avere un contatto fisico. Prima applicazione di questa nuova norma si applica a questo signore che si chiama Vito Vitale e appena gli danno il bambino, io avevo messo microspie dappertutto in quella sala colloquio, sussurra all'orecchio del bambino di 9 anni di a tuo fratello di scannare la vacca palermitana. La vacca palermitana era un certo melozanca che noi sapevamo che lui cercava per ammazzarlo. Quindi appena lo Stato dà un piccolo cedimento la mafia si allarga e usano un bambino di 9 anni per far transitare un ordine di morte. Tutto questo è molto indicativo, non possiamo prescindere da questo per analizzare il fenomeno che si sta avvenendo oggi a Roma. Io adesso mi sono buttato in questa avventura, c'era un film di Carter Russell che dice non so io che cerco i guai, ma i guai che cercano me. Io purtroppo non so perché mi trovo sempre in queste situazioni un po' particolari, una sfiga che mi accompagnerà per tutta la vita. Ti piace il rischio? Ti piace il rischio, mi piace vivere pericolosamente. Dico, la cosa che ho notato era questa. Com'è potuto una mafia come questa di carminati e buzzi a tecchire in un tessuto tradizionalmente non mafioso come Roma. Aveva avuto delle esperienze Roma della banda della Magliana che era un fenomeno sicuramente mafioso. Ha delle esperienze Roma di mafia, mafia un po' più tradizionale che la mafia del litorale, quella dei fasciani, degli spada, dei triassi. E lì, anche giusto a proposito dei guai che cercano me, il sindaco ha dato a me la delega come mini sindaco del litorale di Ostia. Ma la mafia invece di cui ci stiamo occupando adesso è molto particolare. Perché? Come si è potuto creare questo tessuto? Si è potuto creare in un momento di assenza dello Stato. Assenza dello Stato collegato all'assenza di controlli, di regole, di, vorrei dire anche di dignità politica e di dignità amministrativa da parte delle strutture di Roma Capitale, da parte delle strutture della regione Lazio. Purtroppo, laddove i processi amministrativi, laddove l'oggetto, laddove il muoversi della pubblica amministrazione non è fatta nell'unico interesse che deve tutelare, che è quello dei cittadini, ma nell'interesse di pochi delinquenti che devono lucrare sulle spalle, a spese dei cittadini perché la corruzione va tutta nelle tasche dei cittadini. Un accordo corruttivo è un euro di tassa in più che noi paghiamo. Ogni mazzetta che viene pagato sono soldi che vengono tolti dalle mie e dalle vostre tasche. Questo bisognerà capire in questo maledetto paese, certe volte, che la corruzione non è, è, e vabbè dai, no, è un danno a me, stanno nocendo a me, cittadino italiano, ogni mazzetta è un danno che mi fanno alle mie tasche. In un sistema di questi in cui il malaffare, in cui praticamente l'assenza di regole era la regola, e allora è chiaro che soggetti come determinati, con un'organizzazione stabile, potevano comprarsi tutti e se li sono comprati. Io oggi ho reso diverse dichiarazioni a alcuni quotidiani, anche a qualche televisione, è indignate, ma indignate perché? Perché tra l'altro ho visto anche una verità che è veramente triste, gente che si è venduta per un piatto di lenticchie, per 30.000 euro, ti compri una macchina, non ti cambiano la vita, io ho detto paradossalmente che avevano più dignità quelli di Tangentopoli, almeno lì una volta che pigliavo il mazzettone ti eri sistemato per la vita e per la morte, come si dice dalle mie parti. Qua invece con 30.000 euro hai cambiato la tua vita? No, ma hai rauvinato la vita di tantissime persone, perché hai dato dei servizi scadenti, non hai dato l'assistenza agli anziani che meritavano, hai mandato gli estracomunitari in case dove non ci starebbe nemmeno un porco con tutto il rispetto per i maiali, ma questa è la realtà, non hai dato scuole dignitose ai nostri figli, non hai dato l'assistenza che volevano, hai fatto fare file chilometriche per avere un certificato perché non c'era la possibilità, tutto quello, questo va a danno dei cittadini, è lì che la mafia, questa nuova mafia di cui poi parleremo dopo, si è introdotta, Lirio la conosce bene perché Lirio, adesso purtroppo, una volta ero io sotto scorta, ora è lui sotto scorta, poi ci incontriamo al contrario, perché Lirio è sotto scorta? Lirio è sotto scorta perché con lo suo acume giornalistico, perché purtroppo il mistero del giornalista è un e noi da troppo tempo ci siamo abituati ai reggi microfono, al giornalismo d'inchiesta non esiste più, lui lo continua a fare, lo fa benissimo perché è un grande cacciatore di notizie e anche ha scritto ben due anni prima che lo scandalo di mafia capitale scoppiasse come stavano le cose a Roma, ha avuto il coraggio di pubblicarlo sul suo giornale e per questo vive sotto scorta. Beh sì, c'è anche questo fatto, questo lato. questo lato dell'informazione, ogni tanto l'informazione fa... però vedete quello che diceva Alfonso Sabella, c'è la mafia si infila e arriva dove lo Stato non riesce a dare delle risposte. Allora io ho pensato, analizzando questo mio amico che mi vuole tanto bene, si chiama Massimo Carminati, ormai diciamoci, lui mi pensa anche dal 41 bis dove è adesso, pure io lo penso adesso, lui parlava di Vito Vitale, anche Carminati è al 41 bis, noi siamo liberi per fortuna, e che cosa accade? C'è una cosa... siamo vivi, bravo, bravo. Sì, c'è una cosa che dovete... vi faccio un parallelismo così magari lo capite meglio perché a Roma ancora si fa grande fatica a comprendere questo fatto, cioè della mafia, che cosa è oggi la mafia? E perché la chiamiamo mafia? Perché le persone a Roma hanno paura quando si presentano gli uomini di Carminati, perché c'è il metodo mafioso, c'è la violenza che le persone riconoscono, sanno quanto sei capace di essere violento e capace anche di andare oltre la violenza, cioè fino all'omicidio. Ci sono oggi due persone, c'è un personaggio oggi in Italia che è ricercatissimo, ricercatissimo dalla polizia, dalle polizie, che si chiama Matteo Messina Denaro, è ricercato dal 93, è il capo della mafia di Trapani, non è il capo di Cosa Nostra, è il capo della mafia di Trapani, è un signore che ha fatto in passato tanti omicidi, ha ordinato e eseguito anche le stragi del 93, in particolare quella di Firenze, è uno che ha ordinato e poi anche ha ucciso donne, donne anche incinte, la fidanzata di Antonella Bonomo, una ragazza che aveva solo la colpa di essere la fidanzata di uno che secondo Messina Denaro l'aveva tradito ed era incinta e è stata lì uccisa, per cui farvi capire Messina Denaro non è uno stico di santo. Oggi è latitante, latitante dal 93, ma perché latitante dal 93? Perché ci sono dei personaggi così della mafia siciliana come è stato Riina, come è stato poi Provenzano per 43 anni latitante e come adesso Matteo Messina Denaro sono latitanti per così tanto tempo. Come si riesce? Che fa? Cascono in un buco nero, nessuno li trova? No, perché? Perché crea il consenso sociale. C'è un latitante, un boss mafioso come Matteo Messina Denaro crea consenso sociale. Come fa? Che succede? Cioè lui creando questo consenso sociale lui si fa amare dai trapanesi, cioè dalla gente. La gente, non dico tutta, ma gran parte dei trapanesi lo amano. Cioè sentono Matteo Messina Denaro e per loro si apre come se arrivasse il salvatore. Perché? Perché Matteo Messina Denaro ha la capacità, ha avuto fino a poco tempo fa la capacità di dare lavoro. Con i suoi uomini che sono dei prestanome, imprenditori, hanno creato delle attività commerciali, dei centri commerciali, avevano delle imprese e tutti sul territorio sapevano che quelli erano delle teste di legno che stavano lì dietro al banco o comunque proprietari di quelle aziende. Per cui a quelle persone veniva chiesto lavoro e lui glielo dava, lo dava perché sapevano che dietro c'era Matteo Messina Denaro. Per cui quello che diceva prima Alfonso Sabella, parlando di Pietro Aglieri, dice dove non arriva lo Stato arriviamo noi, noi diamo lavoro. Questo ancora nel 2014, quasi 2015, dava da lavoro alla gente, dava da mangiare alla gente. Certo, voi mi dite ma perché vi si rivolgono al mafioso? Cioè uno potrebbe cercarsi del lavoro altrove? No, uno magari te lo cerchi il lavoro altrove, fai anche dei concorsi pubblici, dei concorsi che speri perché ti sei laureato, ti sei laureato con 110 l'ora, hai fatto dei master, tuo papà ha fatto tanti sacrifici per mandarti all'università, tu sei più bravo di tutti e poi magari ti vedi che c'è un asino che all'università diventa l'assistente o comunque ci sono persone che in altri concorsi vengono presi prima di te perché hanno l'appoggio della mafia che è ancora potente. Per cui dove non arriva lo Stato che detta delle linee precise che fa rispettare le regole, la mafia si infila e fa infilare i suoi e per cui una volta ti fa infilare i tuoi e hai dato posti di lavoro, hai garantito magari occupazione. A Napoli immaginando una cosa c'era il cugino di un mafioso che stava in ospedale, aveva una sorta di ufficio, non era un dipendente dell'ospedale però tutte le persone si rivolgevano a lui per i ricoveri, per i certificati medici, per le analisi eccetera e lì la camorra dava a lui la forza, le persone lo riconoscevano anche lì dove non arriva lo Stato, c'era la pubblica amministrazione, arriva la camorra e lì a Trapani arriva Cosa Nostra con Matteo Messina Denaro, per cui la gente lo ama. A Roma non abbiamo lo stragista Messina Denaro, abbiamo un signore che si chiama Massimo Carminati, poverino, eppure ha pure un occhio, ma non per questo è debilitato, anzi ci vede benissimo. Io immagino se ne avessi avuto i due occhi, che cosa poteva fare Massimo Carminati. una volta il suo avvocato mi disse, guarda lei fa questa cosa, dice che lui è il padrone di Roma, che fa i traffici, che fa le cose, con un occhio solo, e avvocato se ne avessi avuti due, cioè non so come, che cosa, o dove potevamo arrivare, o si poteva arrivare. Ce l'aveva l'occhio l'ha perso in un conflitto a fuoco con un carabiniere, insomma, quando era terrorista NAR, quindi insomma. Vabbè, sono infortuni sul lavoro, sono infortuni sul lavoro che provocano anche queste cose, per cui che cosa accade? Accade che in una città come Roma, dove purtroppo c'è un movimento enorme di denaro, che non è dico sporco, ma sono proventi neri, non dichiarati, non ufficialmente dichiarati al fisco, in cui i commercianti, gli imprenditori in qualche modo cercano di farli girare, a volte fanno degli affari in nero con altre persone, magari questi affari non vanno bene, allora tu crei un conflitto, un contrasto, ma non puoi andare dal giudice, non puoi andare dalle forze dell'ordine per denunciare, guardate, quello mi ha truffato 200 mila euro, perché devi denunciare il fatto che quelle somme tu le hai prese guadagnando in nero quel denaro, e allora che cosa fai? Si rivolgono all'arbitro, all'arbitro di una economia sommersa, di un'economia nera di una città, e l'arbitro lo hanno sempre trovato in Massimo Carminati, lo riconoscono tutti, tutti quanti sanno che lui poteva fare, aveva il potere di fare, e vanno in una stazione di servizio a Roma, in Corso Francia, l'indirizzo era noto a tutti, vanno lì e dicono abbiamo questo problema, e lui si mette a disposizione non c'è problema, e lui fa da arbitro, fra virgolette da giudice, magari il giudice non gli piace perché è troppo sbirresco, e mette insieme le cose, ma il problema è che non lo fa da buon samaritano, lui si mette lì, fa da arbitro, però poi chi vince diventa un uomo suo, diventa un imprenditore a lui legato per sempre, così come gli imprenditori che arrivavano da lui, dicevano guardi Carminati, io sono un imprenditore edile, siccome ho sfrattato una scuola, fatto vero, sfrattato una scuola vicino a Villa Panfili, che conoscete tutti, Villa Panfili è un parco enorme, nel centro di Roma, storico, accanto c'era questo edificio storico, c'era dentro una scuola elementare, una materna, io come li ho sfrattati perché in questo edificio lo abbatto, ci faccio 90 appartamenti, ma il comune non me li fa fare, e certo, non puoi costruire lì, però io ci ho investito un sacco di soldi, e lui Carminati dice non ti preoccupare, Carminati sa dove deve andare e l'imprenditore poi intercettato dai carabinieri, dice guarda questo è uno fantastico, in tre giorni mi ha risolto un problema che durava da tre anni, mi bloccavano i lavori da tre anni, e io in tre giorni ho ottenuto da lui le autorizzazioni del comune per far proseguire i lavori e costruire questi 90 appartamenti, l'unico problema qual è stato? Sì, lui ha continuato i lavori, ha devastato quell'area, ha buttato fuori quei ragazzi e quella scuola, il problema è che poi quell'imprenditore è diventato un imprenditore di Carminati, cioè lui non poteva più muoversi, non poteva più fare nulla se non con l'ordine di Carminati, è diventato un'impresa di Carminati, Carminati doveva fare qualche cosa, ma andava avanti lui, che era una persona dal volto pulito, incensurata, però era diventata l'impresa di Carminati, tanto infatti che quando Carminati è stato arrestato, è stato arrestato anche lui e gli hanno sequestrato tutti i beni. Ora, il romano questa cosa non se la spiega, perché dice come? Quello mi risolve il problema, mi risolveva il problema, dov'è la mafia? Non c'era manco un morto ammazzato, ma dov'è la mafia? Cioè non abbiamo visto manco una bomba, non chiedo nel pizzo, non c'è la mafia, cioè se io vado da lui, lui mi aiuta e quello con i suoi metodi va al comune, eccetera mi fa dare il certificato, no la mafia c'è e sta proprio lì, nella mentalità, nel metodo mafioso, perché la Cassazione, il codice penale al cui faceva riferimento prima Alfonso Sabella per quella legge di Piola Torre, non prevede un minimo di omicidi per riconoscere la mafia, non prevede l'affiliazione, cioè il rito, la punciuta del dito con l'ago o con la spina d'arancio o il santino bruciato, non prevede, non prevede nemmeno un minimo di estorsioni, no. Allora se fosse così potremmo dire a Palermo la mafia è finita, perché nel 2014, 2014 adesso chiuso dal primo gennaio al 31 dicembre 2014, a Palermo, che sapete tutti e nessuno può contraddire che non esiste la mafia a Palermo, cosa nostra, c'è stato un solo omicidio riconducibile alla mafia, uno, uno. Allora se c'è questa statistica uno dovrebbe dire a certe persone a Roma, scusa la mafia è finita a Palermo, cioè non c'è più, invece no, è il metodo, è la situazione, è come si trasforma la mafia. Adesso prima di passare a capire che cosa dice Alfonso Sabella su questo tema, a me viene in mente una cosa che mi fa rabbrividire è che quello che io vedo adesso nella mentalità dei romani, perché in questo caso parliamo di Roma, nella mentalità dei romani in cui la mafia non esiste, questa non è mafia, quello ci aiuta, ci trova il posto di lavoro, questo ci risolve i problemi, io vedo gli anni 80 di Palermo, io vedo Ciancimino e Lima, io vedo i personaggi, gli imprenditori che si affidavano a loro, si affidavano poi ai bontate e poi sono arrivati Rina, ma quando sono arrivati Rina già era carneficina, ma fino a quel momento c'era la gente che diceva la mafia qui non esiste, ma non esiste perché non esisteva nemmeno nel codice penale, perché c'è voluto l'omicidio prima di Piolatore e poi di Carlo Alberto della Chiesa nell'82 per poi far arrivare il codice penale, cioè il 416 bis, diceva prima, bene Alfonso Sabella, 33 anni, da 33 anni abbiamo nel codice penale il reato di associazione mafiosa e prima non esisteva nulla e allora io oggi mi vedo purtroppo a Roma nella mentalità delle persone che vivono nella capitale questo modo di pensare degli anni 80 e dico forse Roma è un po' indietro, perché come diceva prima Alfonso Sabella è un problema che riguarda tutti noi, anche voi, perché se la mafia ha questo nuovo strumento che è un'arma, che è la corruzione e la corruzione vi frega tutti, ci frega tutti, allora a questo punto dovremo un attimo guardarci bene, perché, e ora voglio sapere la tua, perché se io faccio un calcolo, cioè Carminati, che si era messo accanto Salvatore Buzzi che era un comunista, Carminati è un fascista, si mette accanto Buzzi che è un comunista che ha le sue cooperative sociali e quelle cooperative sociali secondo un calcolo della procura ha ottenuto dal Campidoglio a trattativa privata in emergenza, per cui appalti in affidamento diretto, somme per 150 milioni di euro, che poi secondo un calcolo degli investigatori del ROS, quei lavori, quegli appalti, se fossero stati dati con la trattativa pubblica, poi magari lo spieghi meglio tu, sarebbero costati 40, al massimo 50 milioni, ecco vedete 100, 110 milioni finiti puliti, puliti, puliti nelle tasche dei mafiosi di Roma, e questa cosa cosa ha provocato? Innanzitutto l'arricchimento dei mafiosi, due, che non ci sono stati servizi sufficientemente ben resi, perché poi comunque erano scadenti certi servizi che venivano fatti, tre, che 150 milioni di euro versati così a trattativa privata in emergenza, 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 perché c'è sempre l'emergenza, anche quando l'emergenza magari la potevi evitare, che cosa ha provocato? Che tu comunque non c'hai più soldi in cassa, arriva un amministratore dice che ma fa? E allora aumentiamo le tasse, perché devo risanare le casse comunali, le casse di quell'azienda, e aumento le tasse e le paghiamo noi, voi, le pago io, per cui ho un aumento di tasse, carenza di servizi perché non ce li ho e a questo punto ho l'arricchimento dei mafiosi, però io di questo non mi accorgo, mi accorgo soltanto che mi lamento, mi hanno aumentato le tasse. Allora a questo punto bisogna guardare la mafia da questo punto di vista, dal danno che ci provoca nelle nostre tasche, in silenzio senza spargimenti di sangue, perché questa è la nuova strategia che hanno. Per il resto le intercettazioni parlano per tutti noi, perché se non fosse stato, perché ci sono queste benedette intercettazioni con l'audio, con le parole dei protagonisti, noi questa storia non avremmo creduto nemmeno a una virgola, perché così molti stanno facendo credere, e invece da quelle parole loro, dalle loro stesse parole crediamo appunto che forse qualcosa di marcio c'è nella politica, nell'imprenditoria e anche nella mafia. Vede, Lirio ha parlato una cosa molto importante, che è quello che viene definito negazionismo, negazionismo perché la gente, vai a Roma, noi Roma è mafiosa, ma che schifo, ma come ti permetti? Io adesso la delega su Ostia, dire che a Ostia c'è la mafia, ma la gente giustamente tende a respingere dal suo ambiente, dal suo modo di vivere, il fatto che ci possa essere l'aggettivo mafioso aggiunto a qualcosa che ti riguarda. Ma era la stessa cosa che giustamente dice Lirio avveniva a Palermo negli anni Ottanta, quando i cardinali illuminati negavano che la mafia fosse, anzi addirittura ci diceva che la mafia era un aggettivo positivo, ah quanto è mafiosa quella ragazza per dire che era una bella ragazza, questo si è arrivato a dire. I procuratori generali, quindi i miei colleghi magistrati dell'epoca, dicevano la mafia, cos'è? Non esiste, lo stesso Michele Greco che disse la mafia durante il Maxi Progetto è una marca di formaggi, quindi il fatto di dover negare la stessa esistenza di un fenomeno che in realtà, la cui capillarità, la cui invasività, la cui violenza e attenzione adesso stiamo parlando di una mafia che lavora a mazzette, ma ricordatevi una cosa che nel DNA di tutte queste organizzazioni c'è la violenza e c'è lo straggismo e infatti gli atti di violenza ci sono anche nell'organizzazione dei carminati, ci sono, per riscuotere i debiti non pagati, per far capire a qualcuno che sta pigliando una strada diversa da quella che volete, la mafia uccide quando è debole, quando c'è un contrasto, quando c'è un conflitto, ma se non c'è non ha necessità di ricorrere all'omicidio, un omicidio costa, io ho indagato su tantissimi omicidi, ho fatto con l'allergastolo centinaia di mafiosi e so quanto costano un omicidio, una pistola noi andiamo in armeria, scusate la brutalità, comprarla a 800-900 euro al mercato nero perché mi serve una pistola colta molto ma molto di più e ogni pistola va distrutta dopo l'omicidio e monouso, la usi una volta sola perché non devi lasciare tracce e devi pagare il killer, devi stipendiare la famiglia del possibile arrestato quando questo finirà in carcere perché devi dargli la possibilità di mantenere i figli, l'omicidio costa, quindi perché ricorrervi quando c'è un modo molto più economico? Una cosa molto importante che è emersa è il fatto che io quando vado nelle scuole a parlare ai ragazzi li ammorbo dicendogli il rispetto delle regole, il rispetto delle regole, il rispetto delle regole, è l'unico modo per combattere la criminalità organizzata di qualunque tipo e quello. Può sembrare una fesseria ma se in questa inchiesta mafia capitale chi doveva farlo avesse rispettato le regole non avrebbero avuto nessuna possibilità di fare quello che hanno fatto. Quando io arrivo a Roma capitale adesso come assessore la cosa che mi accorgo è che quelle emergenze di cui parlava Lirio era un'emergenza che era stata programmata proprio per potersi muovere fuori dalle regole e chi doveva fare i controlli non li ha fatti perché ancora oggi parliamo chiaro in questo paese la corruzione conviene se io sono un imprenditore e devo asfaltare questa piazza speriamo di no perché è bellissima devo asfaltare una strada a Cagliari e secondo il capitolato io devo metterci 20 centimetri di asfalto. Domanda mi conviene metterci 20 centimetri di asfalto per tutta la strada oppure dare la mazzetta al direttore dei lavori e dirgli io ce ne metto 5 centimetri di asfalto e gli dico vienimi a fare i carotaggi là in quei due o tre punti dove ci sono messi veramente 20 centimetri quelli che io ti ho indicato e quindi c'è tutto con l'auto tutto a posto però questa strada con 20 centimetri di asfalto magari sarebbe durata 10 anni ora mi dura un anno, due anni e il prossimo asfalto chi lo paga? Noi, perché lo pagheremo noi. Vi faccio un esempio, l'esempio che aveva fatto Lirio dei Ross, io l'ho visto perché ho avuto un'esperienza da amministratore nell'amministrazione penitenziaria, è una ditta di pulizie ma aveva fatto un preventivo sulla base di una gara consp quindi controllatissima eccetera eccetera per farmi un quadriennale di pulizie a 2 milioni e 800 mila euro per tutta una serie di immobili del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A me da massaia tra virgolette mi sembrò assai. Allora dico ma possiamo fare una gara a evidenza pubblica, pubblichiamo il bando tutto noi? Ho fatto fare una gara secondo i criteri che mi sembravano di fare la gara, quella gara l'abbiamo aggiudicata a 700 mila euro invece che a 2 milioni e 800 mila euro. Il servizio regolarissimo anzi addirittura il Ministero della Giustizia lo dico pure forte che si è avvalso di quel tipo di convenzione è molto meno pulito dei palazzi del DAP, funziona molto meglio secondo me la ditta che abbiamo scelto noi. Ma il problema è questo, lì la domanda che mi sono fatto se tu mi avevi offerto questo servizio per 2 milioni e 800 mila euro e io quel servizio l'ho pagato 700 mila euro e lì c'è stato anche un margine giusto e doveroso dell'impresa. Quei 2 milioni e 100 mila euro in più dove dove dovevano finire? Chi se li doveva mettere in tasca? E allora la mafia, vedete molto spesso questo tipo di organizzazioni, lavorano nel creare il bisogno per poi risolverlo. La loro prima obiettiva è quello di creare il bisogno. Vicenda immigrati. Andiamo a vedere le statistiche molto banali. Roma ha una quota di immigrati che è pari sostanzialmente da gestire di primi ingressi, pari a quelli di Lampedusa, della Sicilia. Ma è mai possibile una cosa del genere? Se sbarcano lì com'è che sono tutti a Roma? Com'è che a Roma ce ne stanno di più? Perché c'era un interesse a portare, a far arrivare questa gente a Roma a creare il bisogno per poi risolverlo come con i tuguri, con le case, con Odeven, che avevano interesse a far arrivare una quota di immigrati a Roma per far creare un bisogno di immigrati. I Rom io penso che sia stata la stessa cosa. Roma siamo invasi da campi Rom. I campi Rom costano, hanno un costo sociale enorme. Giusto o non giusto? Non voglio entrare nel merito. Ognuno avrà le sue idee e sono legittime tutte. Però la realtà è questa. Noi abbiamo creato un bisogno e io sono quello che te lo risolvo. Mi chiamo Wolf e risolvo problemi, direbbe Quentin Tarantino. Il discorso è che il Wolf di turno i problemi li ha creati apposta per poi essere l'unico e la mafia non è diversa dalla mafia tradizionale. È la stessa identica cosa. Io quando lui parlava prima del fatto della stazione di benzina dove Carminati risolveva i conflitti, mi è venuta in mente una vecchissima relazione di una delle prime commissioni antimafia durante il periodo del fascismo addirittura, degli anni 30, dove il tuo capomandamento, perché era all'epoca il capomandamento della tua zona, delle Madonie, che era il nonno di Peppino Parinella, lì veniva descritto un episodio di uno che gli avevano rubato un'asina e si era rivolto al boss per ottenere giustizia perché gli avevano rubato quest'asina. Ma non era andato dal giudice, era andato dal boss. Io in una delle mie indagini a Palermo la mafia normalmente usava sciogliere i cadaveri nell'acido. Ora al di fuori di tutto quello che uno può pensare non era una pratica in sé crudele, cioè determinata da crudeltà. Ero un modo della mafia di tutelarsi, cioè io non lascio un cadavere, non lascio fuori d'entrata, fuori d'uscita, non lascio tracce, non lascio proiettili, faccio sparire, le indagini partono più lentamente, ho tutta una serie di vantaggi. Ci fu un periodo in cui avevano avuto un po' di super lavoro, avevano finito l'acido, uno di questi costa perché è l'acido quello che usano i gioiellieri per pulire i gioielli, ma ne servono fusti insomma piuttosto consistenti, ne servono quantità piuttosto grosse. Quindi tra l'altro anche i gioiellieri stessi a ordinargli per conto dei mafiosi, ma lo facevano, ettolitri e ettolitri d'acido avrebbero stato sospetti. Quindi l'avevano finito. Avevano ammazzato uno, dovevano disfarsi di sto cadavere, lo mettono in una croma rubata, lo buttano, abbandonano questa macchina in un fondo, gli danno fuoco e se ne vanno. Piove, l'incendio non si propaga, la croma si bruciacchia appena e si spegne. Un contadino, un normale contadino che andava a lavorare in quel terreno trova questa croma col cadavere a bordo. in un paese normale, che cosa avrebbe fatto questo signore? Doveva chiamare carabinieri, polizia, qualcuno? Trovavamo uno che è un po' pavido, che aveva un po' paura e diceva a me chi me lo fa fa? Passavi dalla prima cabina telefonica, all'epoca esistevano le cabine telefoniche, una bella telefonata anonima, 112 e 113 e te ne tornavi a casa. Non avevi il gettone? Te ne tornavi a casa e basta! No, questo signore va dal capo mafia locale, da Donnino Mangano. Dice Donnino ho trovato una cosa nel mio terreno, è cosa vostra? Donnino dice che hai trovato? Dice ho trovato un cadavere così così, posso fare qualcosa per voscienza? Levalo. Io questo signore poi l'ho dovuto fare, levalo, toglilo di mezzo che poi ha portato sta croma allo sfascia carrotta a farla cubificare con tutto il cadavere dentro. Io questo signore l'ho dovuto poi processare per soppressione di cadavere. Ma non ero un mafioso lui, ma sapeva perfettamente a chi doveva rivolgersi. Io se avvalso la facoltà di non rispondere, ma se gli avessi chiesto mi dici che è il sindaco di Palermo, mi dici che è il questore di Palermo, mi dici che è il commissario di polizia della tua zona. Ma avrebbe detto che non lo sapeva, ma chi era il mafioso lo sapeva. Perché la loro forza è questa di essere, di diventare loro il punto di interesse delle persone che fanno parte del loro territorio. Carminati a Roma ha fatto mutatis mutandis e le stesse cose. Ma questa strategia Cosa Nostra, siciliana, l'aveva già adottata almeno dal 97 in poi. Quando Bernardo Provenzano è diventato il capo reale di Cosa Nostra e si è tolto, io l'ho aiutato a dire la verità perché gli ho arrestato tutti i suoi nemici. Quindi in qualche modo, dicevo sempre, se mi dovessero processare per concorso in associazione mafiosa avrei difficoltà a difendermi perché ho fatto un favore comunque a Provenzano. Poi però Provenzano l'ha arrestato mia sorella, quindi abbiamo tamponato in famiglia. In quel momento Provenzano scelse questa strategia, quando ebbe il controllo, della sommersione. Come giustamente vi diceva Lirio, a Palermo nel 2014 c'è stato un solo omicidio per mafia, c'è stato un periodo che a Palermo non si ammazzava manco per questione di corna, manco per questione di corna non si ammazzava più perché non si doveva mantenere il territorio tranquillo, sereno, perché bisognava far dimenticare alla gente che la mafia esisteva, bisognava arrivare e tornare a quel negazionismo, a evitare di infangare il buon nome dei siciliani. Come quando, mi ricordo, un governatore della cosa disse che si era parlato male della sicilia della mafia senza contraddittorio, che dall'altra parte ci dovesse Totorrino a fuoco, contraddittorio, non lo so, non ho capito bene come stavano le cose. Perché c'era sempre la cosa bipartisan, lui potrebbe andare avanti con questi anedoti, con queste purtroppo cose serie, fatti serie veri e reali per tutta la serie, però rimane una cosa, hai ricordato, hai ripercorso delle storie criminali, di fatti veri e questa cosa mi riporta sempre di più a una conclusione, cioè che secondo me oggi per contrastare, combattere o cercare di rallentare questa avanzata di questa nuova mafia c'è una sola arma che è la cultura. Cioè se le persone si armassero di culture, per culture io intendo il sapere, il conoscere, essere informati di che cosa è stata la mafia e di che cosa è oggi e come si è trasformata oggi la mafia, ma soprattutto di una cultura in cui dice guarda prendere questa mazzetta è illegale, non si fa, il rispetto delle regole, il rispetto dell'altrui interesse, l'interesse per dei cittadini, la storia diceva l'esempio dell'asfalto, posto di 20 centimetri, 5 centimetri, ma quante ne vediamo anche in altri territori, in altre città dove magari non vediamo la mafia ma che si chiama in altro modo quella corruzione, paghiamo noi con le buche, con le condizioni disumane di palazzi e della cosa pubblica. Allora io penso che ci deve essere la cultura a salvarci tutti, però chi fa cultura oggi? Cioè le scuole abbiamo visto come stanno andando, come dovrebbero andare, con gli poveri insegnanti bistrattati e che adesso non so bene chi arriverà nelle scuole a insegnare, se saranno i presidi a chiamare secondo un criterio giusto di equità e di bravuro oppure di nepotismo, di familismo o altro, non lo so, non si sa, ma è cultura, si parte da lì, dal sapere, dall'informare, è anche dell'informazione, se fai una buona informazione in un certo modo informi la gente, la gente legge e poi soprattutto capire, essere affamati di sapere e di essere curiosi. Ora, Alfonso Sabella vi ricordava tutti questi fatti, uno per tutto quello del piccolo Giuseppe di Matteo, ci ha tenuto quasi 300 giorni, 700 giorni, 750 giorni dentro delle buche scavate nella terra, un bambino che quando è stato preso aveva 13 anni e poi era così scheletrico gli ultimi giorni perché i capelli lunghi, si vedevano le ossa dalla pelle e questo uomo che l'ha fatto sequestrare, ne ha ordinato lo strangolamento e lo scioglimento dell'acido di questo bambino, perché? Perché il papà aveva iniziato a collaborare. Ora, noi in Sicilia abbiamo vissuto queste tragedie, questi momenti dolorosi che ti colpiscono anche oggi, quando ricordi queste cose, ai siciliani e gran parte dei siciliani ti viene il monito di reagire. Ecco, io non vorrei che questo o a questo si arrivasse in altri territori dove oggi la mafia è invisibile ma che forse per fare la guerra allo Stato, per cercare di farsi vedere che è lì presente, debba ricorrere a questi metodi. Perché io penso che da questi errori fatti dalla mafia o comunque da questi esempi si può migliorare, la società deve migliorare e deve impedire che clan come quello di Massimo Carminati possono esistere. Invece a farlo esistere è stata la stessa società, cioè gli stessi romani. Perché se tu chiedi, cioè chiedi purtroppo un servizio di quel genere di cui dicevo io di essere arbitro o di recuperare dei crediti, ma poi il credito non lo recuperi più e diventi tu impresa, eccetera, sei tu che chiedi questo servizio, sei tu che dai forza al clan Carminati. E' così come purtroppo succede in tutte le città, per farvi comprendere meglio di che cosa si tratta. In tutte le città sappiamo bene, in ogni quartiere, in ogni città, chi nella zona controlla o sa, se ti rubano la bicicletta a Roma, se te la rubano a Napoli rubano anche di più le biciclette, ma tu, anche studente stesso, sai benissimo a chi andare a chiedere appena te l'hanno rubata per fartela recuperare. Cioè una delle prime cose che si fa purtroppo, e queste cose le ascoltiamo nelle intercettazioni per altre indagini, e poi ci scopri dentro il professionista, lo studente, il commerciante, che magari è intercettato per altro, gli hanno appena rubato la macchina, hanno fatto un furto in casa, o al figlio hanno rubato la bicicletta, e tu vedi che va a bussare a casa di un uomo che non è un rappresentante delle forze dell'ordine, che vai a bussare alla sala cinesca di un commerciante che non è la caserma dei carabinieri o lo commissariato di polizia, e tu a quella persona chiedi di recuperare, cioè dici mi hanno rubato la bici, e quel signore non ti manda a quel paese. Io non so a Cagliari com'è combinata la situazione, però tutte le città d'Italia sono così, in ogni quartiere di città d'Italia c'è chi il territorio lo controlla, e quel signore a cui tu vai a chiedere se sa o ha notizie della bici, o dove può recuperare la bici, ti ci indica dietro naturalmente il pagamento di una somma, perché il disturbo va pagato. Allora in quel momento per te c'è soltanto la cosa che recuperi la moto, l'auto, la bici, ma per quello invece c'è la gratificazione del fatto che anche tu, medico, avvocato, ingegnere, studente, lo riconosci, gli riconosci il controllo del territorio, e non solo gli riconosci questo, ma gli dai anche il contributo alla sua organizzazione. E in quel momento a te non ti passa nella testa che quel contributo, quella somma va a finire nelle mani di un criminale. Per te è soltanto un ringraziamento a uno che forse nella tua testa ti ha fatto del bene per recuperare quello che ti è stato rubato. E allora a questo punto dobbiamo un attimo guardare le cose che ci accadono o in cui siamo protagonisti con una ottica diversa rispetto a come i film, i romanzi, le fiction ce le hanno raccontate parlando di mafia o delle mafie. E' questo che vi chiediamo facendo cultura e informazione. Mi aggancio proprio a queste ultime parole di Lirio anche se nel suo racconto mi ha ricordato l'unica volta che io in vita mia ho violato i miei doveri di magistrato ed era proprio collegato al sequestro del piccolo Di Matteo perché avevo sentito tante volte, troppe volte la storia del... avevo arrestato tutti quelli che l'hanno strangolato e hanno curato la latitanza il sequestro. E in particolare i tre che hanno eseguito proprio l'ordine erano certo Monticciolo, Chiodo ed Enzo Salvatore Brusca su ordine del fratello Giovanni Brusca. E avevo sentito già la storia che tutti e tre poi hanno deciso di collaborare con la giustizia prima da Chiodo, poi da Monticciolo prima da Monticciolo, poi da Chiodo e c'era Enzo Brusca che avendo deciso di collaborare me la voleva raccontare per l'ennesima volta e io da magistrato ho violato i miei doveri perché avrei dovuto ascoltare quel racconto ma non ce la facevo più a sentirlo per l'ennesima volta l'ho bloccato, gli ho detto guardi Brusca lei sta cosa qua, tanto è uguale più o meno a quello che hanno raccontato Monticciolo e Chiodo che le ha letto nella sua ordinanza di custodia catelare sì con qualche dettaglio, benissimo, me li dice il dibattimento io stasera non ci ho voglia di sentirlo e l'ho bloccato perché è una cosa che ovviamente mi ha atturbato ma ci ha atturbato tutti tantissimo in questa storia e aver poi arrestato tutti i responsabili è stato veramente un qualcosa di un palliativo, non ci ha tolto quell'amarezza di non essere riusciti a salvare la vita di un bambino innocente che veniva tenuto segregato in un territorio che non era il nostro, non era il territorio dello Stato lì ho parlato di cultura è proprio quella, la cultura dell'antimafia la cultura della legalità, la cultura del rispetto delle regole che è l'unico strumento che noi abbiamo perché il problema mafie forse non è un problema di oggi non è un problema che noi sentiamo adesso ma è un pericolo che tutte le grandi città, soprattutto italiane, hanno parlare di mafia vent'anni fa a Milano o vent'anni fa a Torino sembrava una cosa fuori dal mondo perché all'epoca le mafie avevano una scelta diversa le mafie tradizionali avevano deciso di investire in quei territori mantenerli tranquilli, mantenerli fuori da... ora parlo con i miei colleghi di Milano e di Torino mi raccontano fatti che sono i fatti della Palermo degli anni 90 che ho vissuto io in certi quartieri, perché? perché quando le mafie hanno finito di succhiare la linfa vitale dei territori delle regioni del sud dove andavano più? hanno ormai esaurito tutte le risorse sono state la mafia italiana tra l'altro la grande criminalità italiana è stata sostanzialmente marginalizzata nel giro del traffico internazionale di stupefacenti solo l'andrangheta c'è dentro gli altri si accontentano di spacciare qualche chilo di cocaina ma niente di più e allora dove succhiavano queste risorse? allo Stato e a questo punto anche negli altri territori dove questo non l'avevano fatto questo cancro che si estende così a macchia d'olio va fermato è l'unico modo che noi abbiamo per fermarlo ma per fare in modo per anestetizzarlo io sono stato criticato da molti giornali perché ho detto che contro la mafia ci vuole il napalm perché ho citato il napalm? è una cosa orrenda, indegna di un essere umano solo pensare al napalm perché il napalm dove passa non solo distrugge ma in cicatrizza impedisce che lì possa più crescere qualunque altra cosa e allora per cicatrizzare per impedire che le mafie l'unica risposta che si può dare la può dare la società civile la può dare la società civile con lo Stato in una unica battaglia che è quella la battaglia della cultura della legalità del rispetto alle regole della responsabilità signori della responsabilità io non voglio un paese non deve essere un paese tristissimo quando chiede l'eroismo ai suoi cittadini nessuno di noi deve essere eroe perché lo Stato non vuole eroi però occorre che ognuno di noi prenda le sue responsabilità assuma le sue responsabilità io ho lavorato a Palermo per tanti anni con una frase che mi scorreva sul computer che era una frase di Kennedy non chiederti quello che il tuo paese può fare per te ma quello che tu puoi fare per il tuo paese io questa frase quando la racconto ai ragazzi nelle scuole ti aggiungo sempre una mia chiosa però vigila, controlla che chi ti governa chi ti amministra faccia la stessa cosa abbia il suo paese al primo posto e non il suo interesse personale ora noi a Roma stiamo vivendo un momento particolarmente difficile una città assediata da questa criminalità che aveva invaso tutti i settori della pubblica amministrazione molti settori tra l'altro anche quelli permettetemi di dire quella azione lì era più squallida perché tu andare a sfruttare sul dolore della povera gente sul dolore degli immigrati sul dolore dei disadattati sul dolore dei portatori di handicap è una cosa ancora più squallida che altrove ed è un momento in cui a me è venuta in mente una frase di Giovanni Falcone Falcone diceva si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrato in un gioco troppo grande io credo che determinati uomini delle istituzioni delle informazioni a Roma oggi si trovano in questo gioco grande ci sono dentro e allora la cosa più sbagliata che può fare questo paese in questo momento è quello di lasciarli soli non so se abbiamo ancora tempo per se c'è due domande possiamo far fare due domande una buonasera io sono Marco Pergolizzi e vivo da cinque anni a Roma studio ho fatto praticantato giornalistico volevo sapere un'informazione io da quando sono arrivato a Roma ostia per vari motivi tra cui io faccio anche vela l'ho frequentato abbastanza come quartiere quindi ho conosciuto qualche persone che ci vivono lì che partecipano delle associazioni anche politiche non so se avete mai sentito il cambiare davvero di Alessandro Norato che comunque è un consigliere a Roma Capitale dunque io da che sono arrivato a Roma me la sono accorto subito che era un quartiere rispetto al resto della città completamente lasciato a se stesso e in mano alla mafia e io mi chiedo allora questo è parte del comune di Roma perché tra l'altro come voi sapete perché vivete a Roma come me il municipio che oggi è il municipio 10 è quello in assoluto uno dei più abitati nella città di Roma come mai viene quasi marginalizzato e si sa dagli anni 90 che c'è soprattutto la camorra e non viene fatto niente perché vuol dire che sta bene così addirittura il municipio di Roma e il municipio 10 è un municipio decentrato rispetto al resto la città ha poteri particolari lei lo sa bene ha detto che infatti adesso io il sindaco di Austin adesso è lei sì giusto e quindi mi chiedo come mai c'è questa situazione come mai c'è questo lassismo nei confronti di Lido di Roma rispetto agli altri quartieri si è voluto in qualche modo che si creasse questa situazione che ci fosse questo squilibrio tra i quartieri a nord e centro di Roma e quelli sud andando verso il Tuscolano e Lido insomma mi piacerebbe sapere Roma c'è anche altri quartieri che soffrono situazioni analoghe purtroppo Ostia ha delle peculiarità ha delle peculiarità perché comunque c'è una soluzione di continuità tra Ostia e il centro urbano di Roma una soluzione di continuità piuttosto consistente sul piano geografico perché io me ne accorgo ci metto un'ora per arrivare dal Campidoglio a Piazza della Stazione Vecchia al municipio di Ostia ma come lei avrà visto Ostia per esempio è famosa per il suo lungo muro io ho avuto un momento di libertà il muro al mare dall'albergo mi sono spostato verso i bastioni e ho visto il mare perché a Ostia che è il mare di Roma dovrebbe essere l'affaccio della capitale sul mare il mare non si vede non è possibile vederlo perché negli anni è stato consentito ai vari gestori degli stabilimenti balneari di alzare dei muri io ho qua l'iPhone pieno di fotografie che vado facendo a tutti gli stabilimenti settimana prossima il mio obiettivo è quello di andare ad abbattere questo muro e ci riuscirò se non mi cacciano prima mentre l'estate è prossima perché non lo posso andare a fare tutta la stazione balneare lì è da 30 anni che continuano a costruire muri per murare gli stabilimenti balneari per avere un mare in gabbia per non far pagare l'accesso al mare perché a Ostia se tu vai al mare devi pagare e le leggi italiane dicono che l'accesso al mare è libero e gratuito per tutti i cittadini ma Ostia si paga perché ho preso le concessioni ora non sono in grado di rispondere alla domanda perché è stato fatto così io so solo che ho preso le concessioni sono concessioni che vengono rinnovate da sei anni in sei anni lasciamo stare tutto in tutte le concessioni c'è scritto la recinzione dello stabilimento verso terra non deve essere in muratura non deve essere alta più di 110 centimetri di 110 centimetri 90 centimetri abbiamo muri di 3 metri tutti in muratura lo stato dove era dove è stato lo stato fino a questo momento perché è successo questo a Ostia sappiamo perfettamente c'è la sentenza operazione Albanova che ha dimostrato che a Ostia ci sono almeno tre clan mafiosi operativi sul territorio ma clan mafiosi seri io su Ostia ne so parlare da quando era a Palermo manco sapevo dove stava Ostia quando era a Palermo nel 1997 dal carcere di Parma evade in qualche modo perché in realtà c'è stato un errore un disguido Pasquale Contrera il più grande narcotrafficante di tutti i tempi l'uomo che aveva messo in contatto la mafia siciliana di Salvatore Rina con i narcos colombiani che curava praticamente l'importazione di morfina base dalla Colombia in Sicilia dove veniva raffinata trasformata e poi ripartiva per i mercati nordamericani e nordeuropei io sono andato a segostato un milione di dollari sepolti sotto la terra a Lugano frutto di una di queste transazioni io all'epoca questo signore scappa si rende irreperibile esce dal carcere di Parma faccio un'indagine piglio i tabulati nelle cabine telefoniche là davanti intercetto un cellulare di Ostia dico ma sto cellulare di Ostia vedo che fa il percorso seguendo le celle dal carcere di via Burla a Parma fino a Ostia e poi di Contrera si perdono le tracce tengo sotto controllo i tabulati di quel cellulare per qualche giorno e vedo che ci sono dei contatti con delle cabine telefoniche spagnole di Fuengirola un paese a sud di Torremolinos ci mando lì lo scode alla polizia di stato c'era la buonanima di Calipari tra l'altro all'epoca in cui facevano indagini e lì mi trovano Pasquale e Contrera quindi la pista per arrestare Pasquale e Contrera a me parte dal 97 da Ostia dai fratelli Vito e Vincenzo Triassi di Ostia quindi il collegamento di questi signori con la mafia siciliana mi pare che sia piuttosto evidente non sarà sufficiente per farli condannare per associazione mafiosa ma è un elemento che io il mafioso narcotrafficante siciliano lo arresto seguendo i tabulati dei loro telefoni cellulari non c'è dubbio di questo ora io mi ritrovo adesso con una sentenza che mi dice che c'è un clan fasciani che gestisce le estorsioni che ha il controllo del territorio e mafia molto più tradizionale gli omicidi di Piazza Casbarri ti saranno noti abbiamo attentati incendiari a Ostia piglia fuoco tutte quando io quando io c'è a parte il Faber Beach Faber Beach sarà pure una cosa a me quello che mi ha bruciato di più tutti i profili è stato il fatto che hanno dato fuoco a un ufficio comunale dove guarda caso c'erano le planimetrie degli stabilimenti balneari e ora non sei in grado di ricostruirli ho trovato grazie a una fonte una vecchia planimetria l'ho fatto fare 40 fotocopie l'ho sparsi in 40 uffici di Roma ora manco Nerone lo può bruciare più manco Nerone scusate ma per me Ostia è diventata una passione perché ci passo due giorni a settimana in media Ostia giustamente dice lui ha anche delle peculiarità perché aveva la delega sul litorale e la delega sul verde e Ostia oggi l'ex minisindaco di Ostia quello di cui diciamo il posto ho preso io è stato oggetto di un provvedimento cautelare proprio per alcune gare che riguardavano la pulizia delle spiagge nell'ambito di questa operazione con la gravante mafiosa no Tassone non è stata contestata no Tassone no se l'è cavata se l'è cavata la gravante mafiosa non l'hanno contestata forse non ci stava insomma fidiamoci dalla magistratura quindi Ostia è stata trascurata a lungo tempo proprio perché era un territorio anomalo rispetto a Roma cioè e che quindi era nelle mani e purtroppo potrei dire è nelle mani io quando adesso arriva Ostia scopo che un signore per carità non indagato ma è il fratello di uno dei capi clan di Romoletto Spada capo del clan degli Spada in cui c'è una sentenza di condanna ai panaventina d'anni per associazione mafiosa di Ostia gestiva una palestra e una scuola di danza all'interno di un immobile di proprietà del comune di Roma cioè il fratello del capo mafia aveva un immobile di proprietà del comune di Roma occupato abusivamente e nessuno gli diceva scusi ma si può far da parte se ne può andare questo non è cosa tua è del comune c'era il silenzio tromertà ma stiamo parlando di Roma signori io sono arrivato ora ve la dico tutta sono arrivato a Ostia da meno di due mesi nei primi venti giorni che sono arrivato lì ho preteso di portarmi dei dirigenti nuova di mia fiducia mi sono portato tre donne capaci brave in gamba competenti la prima la direttrice del municipio il primo giorno che arriva esce dal municipio e trova i vetri della macchina del comune parcheggiati nello stallo come si dice riservato ai mezzi comunali rotti sarà stato il vandalo la seconda che è la direttrice dell'UAL l'unità operativa che si occupa del litorale e dell'ambiente quindi parte principale di Ostia si trova due telefonate di minacce e più una minaccia che arriva da un soggetto che si presenta personalmente perché gli avevamo tosto un chiosco a uno di questi implicati in questa operazione mafiosa non vi posso dire di chi perché ci sono indagini rincorso e viene minacciata la terza la dirigente del sociale la sera esce alla sera alle 8 dall'ufficio e viene fatto oggetto di un bruttissimo tentativo di violenza sessuale e poi non andrà a trovarla di notte in ospedale viso massacrato una donna rovinata perché la sua vita sarà rovinata perché quell'episodio sta povera donna non lo dimenticherà mai più questa è Ostia signori ma questa è Roma ora saranno tre coincidenze lo so ma in 20 giorni le mie tre dirigenti a tutti e tre succede qualcosa dove sono andata a mettere le mani stiamo parlando di Roma stiamo parlando di Roma non stiamo parlando di Reggio Calabria di Palermo di Partinico di Corleone maledizione e questa è la cosa che ci dobbiamo chiedere e allora di fronte a una realtà di questo tipo come reagire? reagire l'unica cosa è recuperare il controllo del territorio e lo Stato io sono arrivato lì la prima cosa sarà un segnale piccolo mi sono ripreso il mio immobile mi sono ripreso la mia palestra quelle mie del comune dei cittadini sto cercando di riprendermi il mio mare perché il mio mare mare di Roma è il mare dei cittadini dobbiamo riprendersi le nostre cose perché la terra e il territorio è nostro non è della mafia non è delle mafie è nostro questo vi fa capire in che realtà in che realtà si vive e purtroppo molte di queste cose non arrivano purtroppo alla ribalta dei media nazionali perché per tanti motivi perché Roma perché molti hanno vergogna a raccontarle sui Tg nazionali sui quotidiani nazionali però quello che raccontava adesso Alfonso Sabella ti fa capire sia la paura ma l'omertà comunque che c'è poi in un territorio come quello di Ostia pensate in questa sentenza a cui faceva riferimento prima ci sono state delle persone che sono state vittime di intimidazioni c'è stato un pugile di fiumicino una montagna un ragazzone che alcuni dei boss che sono stati condannati gli hanno fatto sparare soltanto perché lui aveva parlato male della figlia di uno dei boss è stato ferito è stato gambizzato e poi c'era stata una un estetista non si capiva bene perché comunque c'era uno dei boss che l'aveva fatta seguire pedinare eccetera la dovevano uccidere non si sono riusciti e l'hanno soltanto ferita gambizzata bene il pugile quando è stato chiamato dai giudici in tribunale per spiegare scusi ma lei allora sappiamo tutto quanto lei il boss qui diciamo le ha fatto sparare lui non ha detto nulla io non dico nulla non so nulla è successo è successo un incidente poi aveva detto io voglio continuare a campare bene ed è un signore enorme che fa il pugile vive pure a fiumicino che è un po' distante da appunto mentre la signora dell'estetista che le hanno fatto vedere i documenti dice signora lei è stata fotografata eccetera la dovevano uccidere le hanno sparato dice no guardi ma io l'ho presa non è così è stato secondo me un motivo una lite di condominio e mi hanno fatto sparare ecco ma di fronte a questo capisci la paura della gente che c'è che c'è lì ed è una cosa che soltanto forse con le cose pratiche che sta facendo Alfonso Sabella che sono coraggiose sono pratiche reali cioè riappropriarsi dei beni che hanno queste persone cioè l'immobile dove c'era la palestra del comune te ne riappropri il fatto senso che fai abbattere queste mura di cinta che non devono essere che fai vedere il mare che fai abbattere ha fatto abbattere poco tempo fa dei chioschi che erano abusivi che stavano lì e non potevano essere fai capire che fai delle azioni pratiche però è difficile però tutto questo devi avere l'appoggio anche della gente altra domanda se c'è perché poi ci buttano fuori da qui non c'è poi dobbiamo pure andare a mangiare ah sì sì che oggi non ha avuto proprio eh bene nemmeno io con i croccantini per i gatti dell'aereo qua dico che si mangia benissimo abbiamo trovato? dov'è? non la sento signor vedete un può ricominciare non la sento in merito alla mafia sulla Sardegna un quadro a colori o bianco e nero signora come sulla Sardegna da quel poco che so le posso dire una cosa che la vostra Sardegna vabbè a parte le cose che che conoscete da da prima eh ho ultimamente diventato un una stazione di transito una stazione di transito sia di traffici internazionali di stupefacenti ma anche una stazione di transito di denaro di riciclaggio di denaro sporco ecco non immaginate che la vostra città la vostra regione è immune da questo fatto ad esempio mi sono accorto ma sono venuto sia lo scorso anno poi sono venuto un'altra occasione quante sale scommesse ci sono in una piccola città di 200.000 abitanti contatele contate quante sale scommesse ci sono qui e in provincia cioè sono una cosa enorme e quasi tutte sono in qualche modo legate fra di loro come proprietà e come gestione e non penso che siano tutti sardi quelli lì che la gestiscono che sono dietro queste sale se magari c'è qualche proprietario qualche gestore qui magari lo può dire lo può raccontare non c'è o ci dobbiamo scanzare allora siccome dietro dietro a questa dietro dietro a questi fatti che sono evidenti cui magari voi passate non ve ne accorgete cioè è stato come negli anni 80 a Trapani a Trapani era una piccola città forse lo stesso numero di abitanti di Cagliari negli anni 80 c'era il più alto numero di sportelli bancari d'Italia cioè due erano le cose erano tutti miliardari per cui diciamo nutrivano oppure c'era come poi abbiamo abbiamo capito un grosso giro di riciclaggio di denaro da quelle parti allora a questo punto ecco che ci possa essere qui una presenza di un clan io questo non glielo so dire dovrei studiare meglio la Sardegna ma le cose che io le posso dire d'impatto quello che conosco è il traffico il traffico internazionale di droga da qui dalle coste da molte coste fa base e lì i sardi si ci sono i sardi che si guadagnano del denaro facendo da base logistica da appoggio a questi trafficanti di droga e l'altra la cosa che mi accorgo subito è l'alto numero come vi ho detto prima di sale scommesse sono troppe per una città come la vostra che non è di un milione di abitanti per cui chiediamoci un attimo che cosa che cosa c'è e poi si sono scommesse eccetera ma questo vi succhia vi succhia via un'economia legale vostra che è presa dai risparmi e da tutto e danneggia la mente di chi va ogni giorno lì a giocare a scommettere a stare davanti a queste macchinette considerate il fatto che c'è gente che sta lì a giocarsi la pensione non di un mese ma di due mesi che ancora deve prendere l'altra per cui anche su questo non pensiate che dietro quel banco delle sale scommesse ci possa essere un buon samaritano c'è sicuramente qualcuno che qui ha capito di venire a impiantare queste sale perché sa che comunque inchiasignò un apolo ha segnato la Juve brutta notizia è interista questo è il quadro che posso dare io non so se Alfonso Sabella sa altro mi inquieta io non conoscevo il dato sicuramente mi inquieta perché ho visto invece un rapporto recente di Eurispes sul rischio usura e sull'indice di usura che molto spesso è molto indicativo da verificare perché l'usura purtroppo è una di quelle cose collegate a quel discorso che vi dicevo prima io creo il bisogno e poi lo soddisfo nel momento in cui l'ho soddisfatto io tu sei il mio schiavo che è quello che vi diceva Lirio ti ho messo sotto il mio controllo e proprio il crescere delle sale scommesse era uno degli indici che gli esperti di Eurispes avevano valutato al fine di calcolare il il no il tasso usura come lo chiamano loro diciamo comunque l'indice di usurabilità di una città cioè quale potrebbe il rischio usura quindi e avevo visto che proprio la Sardegna si collocava ai primi posti di questa classifica cioè era molto in alto nel senso che il rischio che ci siano dei fenomeni usurai l'usura è uno di quei fenomeni che normalmente non si denunciano se noi andiamo a vedere le statistiche del ministero dell'interno ci accorgiamo che ogni anno ci sono poco più di 1200 tutta Italia poco più di 1200 denunce per usura considerate che 800 di questi sono normalmente usura bancaria quindi certe volte anche strumentale per evitare per ritardare il pagamento alla fine i casi dei cosiddetti cravattari sono 400 500 in tutta Italia e capirete benissimo come sia un dato assolutamente poco credibile quello delle denunce connesse col fenomeno l'usura vedete le mafie all'inizio quando dovevano ammazzare qualcuno a Palermo dicevano quello è un usuraio quindi è un indegno l'ammazzano poi hanno capito che con l'usura ci si poteva fare fior di soldi e soprattutto si poteva tenere la gente immobilizzata ai propri ai propri voleri e allora hanno investito i mafiosi hanno cominciato a investire loro stessi sull'usura e il fatto che dice Lirio della crescita delle sale gioco in questo territorio secondo me è qualcosa che occorrerebbe monitorare perché significa che c'è un rischio usura molto molto elevato e dal rischio usura purtroppo l'usura è uno dei reati peggiori che esiste perché l'usura toglie la volontà alla gente ti metti assoggetta completamente una determinata persona ai voleri dell'usura poi scatta questa sorta di sindrome di Stoccolma folle perché è come se io tu l'usuraio sei quello che mi hai aiutato nel momento del bisogno che poi il concetto è quello il problema è ma perché ti sei rivolto all'usuraio certe volte per salvare la tua impresa perché le banche ti avevano chiusi i rubinetti perché non ti trovavi le risposte nello Stato perché eri un imprenditore che hai fatto dei lavori nello Stato e lo Stato non ti pagava ti pagava con ritardo perché tu non avevi dato la mazzetta al posto giusto diciamocele anche queste cose certe volte però purtroppo sono anche fenomeni molto più ingenui perché voglio l'iPhone 6 o perché il mio iPad non ha il display retina o qualcosa del genere certe volte sono anche di questi fenomeni con la crescita del credito al consumo che è molto indicativo di questo il fatto di far acquistare le cose rate alla gente tutto questo sono le logiche del mercato io ti creo il bisogno e te lo soddisfo io ti vendo l'iPhone ma nel frattempo ti faccio il contatto con la finanziaria che ti finanzia questo cosa cosa vuoi che siano 20 euro al mese 20 euro di questo 20 euro di questo 20 euro di questo e a fine mese poi non ci arrivi più ma questo è il meccanismo del mercato le mafie non sono diverse perché la mafia ormai è fatta mafia imprenditrice ti creano il bisogno e te lo soddisfano quindi attenti a questi fenomeni non conosco la realtà sarda le ultime notizie che ho avuto qua io la Sardegna la conoscevo diciamo purtroppo per quel che mi riguardava per le carceri perché per me quando riuscivo a mandare qualcuno alla Sinara ero bello e contento all'epoca quando c'era la Sinara non perché eri stavi in carcere no perché Bagarella quando l'abbiamo arrestato l'ho portato alla Sinara a 41 bis ero tranquillo che lo tenevano bene che non c'erano problemi insomma perché le carceri sarde funzionavano molto bene ora ho seguito tra l'altro questa scelta diciamo dell'amministrazione penitenziaria che in qualche modo ha fatto lamentare molto l'isola giustamente sotto certi profili di creare i due super penitenziari di Cagliari Uta e di Sassari dove ci saranno 100 e 100 detenuti a 41 bis quindi i detenuti peggiori però considerate che la legge dice che questi mafiosi devono stare sulle isole e siccome le isole in Italia di fatto sono due una è la Sicilia e l'altra la Sardegna i siciliani devono per forza portare a Sardegna è una scelta un po' obbligata in qualche modo vi chiedo scusa va bene chiudiamo allora noi vi ringraziamo grazie tante buon proseguimento di questo festival e chi può si va a vedere il secondo tempo la partita perché forse è ancora un tempo no no grazie ancora grazie a tutti